Oh, ecco qui, e quando uno ci va di pennello, eh, viene un bel lavoro, eh, guarda un po', sì, fatto, là, guarda che attacco d'arte che mi è venuto oggi, un attacco di quelli proprio popopotenti, eh, che attaccone d'arte, va là che bel lavoro, va schifo proprio, sembra un mastro geppetto, bellissimo!